Mentre a Nociara Inferiore Vivace il dibattito sulla chiusura del perimetro urbano alle auto e mezzi pesanti in seguito all'ordinanza del sindaco Torquato, dettata dallo sforamento dei parametri di tolleranza di CO2, si celebra oggi 24 maggio lo sciopero mondiale per il clima. Vi hanno aderito 110 paesi del mondo per rimarcare la necessità di cambiare le politiche a salvaguarda dell'ambiente e del clima con l'intento di mobilitare oltre le scuole tutti i settori dell'economia. In tutta Italia ci si mobilita scendendo in piazza a difesa dell'ambiente e del clima. A Milano, promosso dall'Associazione Cittadini per l'Area a Roma ma anche in altre città, cortei si snoderanno per le strade del centro per sensibilizzare tutti su un tema vitale per il pianeta. E si fa strada la teoria delle soluzioni alternative allo smog in città. L'alta concentrazione di polveri sottili necessita soluzioni immediate. Oltre alla chiusura forzata dei centri cittadini alle auto, prende piede la rivoluzione verde che vuole la presenza tra il mare di cemento, di piante anti-smog e comunque di aree verdi che rappresentino il vero polmone dei centri urbani. A venire incontro alla sensibilizzazione, il governo che ha tra l'altro istituito il bonus verde è consistente nello scalare il 32% dalle tasse per l'acquisto e la posa in opera di verde in parchi, terrazzi, balconi, giardini ma anche all'interno delle stesse abitazioni, in questo caso per combattere l'inquinamento domestico. Intanto una start-up britannica sta lanciando un progetto pilota che utilizza piante microscopiche in grado di rimuovere l'inquinamento dell'aria attraverso i processi di fotosintesi che rimuovono gli inquinanti dell'aria assorbendo anidride carboniche e liberando ossigeno, ma allo stesso tempo produrre ingredienti alimentari. Il sistema prevede la coltivazione di piante microscopiche come le microalghe su strutture simili a dei pannelli solari che possono essere installati ovunque anche davanti ad un bar per esempio, una tecnologia che secondo gli esperti potenzia notevolmente l'abbattimento degli inquinanti. Vista la situazione drammatica rilevata dalle centraline ARPAC che evidenziano lo sforamento continuo anche nelle città dell'agro bisognerebbe cominciare a pensare seriamente all'ausilio di tecnologie green che sfruttano la capacità delle piante nell'assorbire le sostanze inquinanti. Tutto questo alla luce anche dello studio evidenziato dal Sole 24 Ore ed effettuato da ricercatori dell'Istituto Europeo di Oncologia sulla stretta correlazione tra tumori e ambiente. I ricercatori hanno scoperto la relazione tra la rottura del DNA che genera cromosomi rotti provocati dall'ambiente esterno ovvero fattori inquinanti che svegliano il DNA.